Firenze e Scanzano, la cula del rinascimento e una delle perle della Maremma, l'inestimabile patrimonio artistico e le celebri colline del Morellino. Due splendide cartoline toscane che però in questi giorni sono state, climaticamente parlando, le due località meno ospitali della nostra regione. È qui che facendo una media settimanale si sono registrate le temperature più alte della Gran Ducato. Il record l'ha fatto segnare proprio la stazione di rilevamento Torricelle della rete del centro funzionale regionale che si trova a Scanzano. 41 gradi registrati questo venerdì. Firenze, alla centralina dell'orto botanico, non è andata a oltre 40,6 gradi di mercoledì scorso. Proprio il capoluogo toscano per tutto il fine settimana è tra le città con il bolino rosso per il grande caldo, malgrado l'ondata di calore abbia spostato il proprio baricentro sulle province di sud-est, Arezzo, Siena e Grosseto. Anche la prossima settimana, fanno sapere dalla Sala Meteo e dell'Amma, ci sarà da soffrire. Le temperature saranno comunque un pochino più basse grazie ai temporali previsti, martedì nelle zone nord della regione, mercoledì anche in quelle centrali. Le massime saranno comprese tra i 35 e i 38 gradi e anche i valori minimi resteranno elevati con notti a fose. L'estate 2022 è seconda solo a quella della 2003 come temperatura media. Quell'anno giugno fu più caldo ma l'attuale mese di luglio è il più bollente che si ricordi.